Un'organizzazione composta da marocchini e italiani dedita alla ricettazione al riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata è stata scoperta dai finanziari del Comando Provinciale di Roma nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia. Gli accertamenti delle fiamme gialle, che hanno preso le mostre da un'analisi sui flussi dei passeggeri in partenza dal locale Scalo Portuale alla volta di Barcellona ed ha approfonditi controlli, hanno permesso di appurare che numerose autovetture venivano clandestinamente esportate in Marocco attraverso la Spagna utilizzando documenti falsi per essere destinate al mercato estero. L'organizzazione si avvaleva della complicità dei proprietari delle auto per lo più Mercedes, BMW e Audi che le consegnavano i componenti del sodalizio e ne simulavano successivamente il furto al fine di richiedere il relativo indennizzo alle compagnie di assicurazione. Il giro d'affari dell'attività illecita, lo stato quantificabile in quasi 800.000 euro, consentiva un illecito duplice guadagno quello derivante dalla vendita all'estero delle autovetture e quelle del risarcimento da parte delle società assicuratrici. Denunciate all'autorità giudiziaria di Civitavecchia 20 persone per associazione a delinquere finalizzata la commissione dei delitti di simulazione di reato, ricettazione, riciclaggio e truffa ai danni di compagnie assicurative. Grazie